Musica Ciao a tutti, mi chiamo Davide Bortolai e mi occupo di musica e di meditazione. Insieme al musicista Alberto Foresti ho formato un duo che propone concerti ormai da diversi. Il progetto Il Suono del Legno prevede il singolare organico strumentale di salterio e chitarra. Inizialmente i nostri concerti in duo chitarra e clavicembalo prevedevano un breve intermezzo dedicato alla chitarra e al salterio. Questo intermezzo è poi diventato via via sempre più ampio ad ogni concerto e ogni volta potevamo constatare il profondo coinvolgimento degli ascoltatori nei confronti di queste nuove sonorità. Ci siamo quindi dedicati allo studio e alla stesura di un repertorio per chitarra e salterio, comprendente brani che vanno dal medioevo alla musica contemporanea. Il salterio e la chitarra rappresentano due entità simboliche molto diverse. Il salterio è legato alla sfera della spiritualità e tradizionalmente è raffigurato nei dipinti tra le mani degli angeli, mentre la chitarra rappresenta quasi sempre la dimensione umana della danza e del ritrovo conviviale. Il salterio dirige il suo suono verso l'alto, in senso verticale, verso la divinità, mentre la chitarra proietta il suono in orizzontale, verso l'uomo. Questa duplice direzione che forma simbolicamente una croce dà origine a una sonorità molto particolare, in continuo equilibrio, tra un mistico abbandono indotto dal salterio e da una forte sensazione di fisicità impresso dal ritmo della chitarra. Vi faremo ora ascoltare alcuni brani del nostro repertorio. Buon ascolto! Buon ascolto! Buon ascolto! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.